Il Taranto cinico formato esterno e Spugna a Sorrento con un netto 2 a 0. I rosso-blu si prendono tutto nella ripresa e il successo è firmato da Marino e Matute per entrambi prima rete in campionato. Accade tutto in un quarto d'ora. Ad inizio ripresa Guaita lavora un buon pallone dal fondo, Marino appostato sul secondo palo batte in diagonale Scarano. Il sigilo alla gara lo mette Matute e Sventola da fuori aria sulla sfida. Possono scorrere i titoli di coda. Al seguito circa 100 tifosi tarantini. Il Sorrento imbattuto da 18 settimane appare nervoso. La cronaca nel primo tempo è scarsa dopo 9 minuti. Genchi segna ma il direttore di gara annulla per un presunto fallo di mani. Al venticinquesimo c'è un diagonale al volo da brivido di Alvino che è un ex. Dieci minuti dopo palo esterno di Bonanno da due passi. Sul finire del primo tempo l'area del Taranto diventa un flipper. La difesa rosso-blu soffre e l'azione sfuma. Nel primo e unico minuto di recupero della prima frazione di gioco grossissima occasione corretta serve Genchi che si vede respingere da Scarano. La conclusione ravvicinata. L'occasione per il Taranto è la più ghiotta del primo tempo. Nella ripresa pulizione di Herrera plastica la respinta di Sposito. Dopo 9 minuti la Monica di forza ma Sposito c'è ancora. Il Taranto passa a sorpresa in vantaggio all'undicesimo. Manzo serve Guaita da quest'ultimo in mezzo per Marino. Lo Juniores non si lascia pregare. Il raddoppio di matute prima della mezz'ora per il centrocampista. Entrato nella ripresa il gol che manda la partita in archivio. Nei minuti di recupero il Taranto potrebbe triplicare. Avantaggiato al suo esordio semina il panico nella metà campo avversaria. Poi da Guaita ma in ritardo. E infine al quarto minuto di recupero il Taranto colpisce anche un palo. con Guaita dal limite tiro a giro che sbatte sulla base del palo.